Unica Twin è una delle ultime soluzioni presentate da Lauer, sono con il dottor Lanaro. Dottor Lanaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, siamo alla terza giornata di CIGEP, sappiamo che Lauer ha diverse soluzioni per diversi settori industriali. Qui a CIGEP cosa avete portato? A CIGEP abbiamo portato la pesatrice automatica di ingredienti in polvere per settore industriale, quindi per grandi produzioni. Per fare un esempio, chi produce preparati per i gelati, basi per i gelati, pasticcerie di grandi dimensioni e via dicendo. Diamo un attimo una panoramica sintetica, quali sono i mercati che servite? I mercati che serviamo sono a livello mondiale, principalmente l'Europa e adesso stiamo arrivando in Sud America col Brasile e ci stiamo interessando all'Asia con la Cina. Quindi ovviamente esportate anche voi. Sì, sì, sì. Quali manifestazioni prossimamente? Immagino una su tutte Pautec. Pautec a settembre di quest'anno e Interpac che sarà poi ad aprile di quest'anno. Inevitabilmente. Esattamente. Come sta andando la fiera? La fiera sta andando bene, sono clienti profili di qualità, interessati, che conoscono già il prodotto e quindi è molto interessante la partecipazione di quest'anno. Va bene, allora grazie e buon proseguimento. Grazie a lei. Grazie a lei.